1-1 per Gioiaz! Bisogna non aver paura di fare cose di sinistra, almeno il primo maggio, quindi io questa sera, visto che ci ritorno dopo ben 15 anni, è stata un'emozione incredibile, un piacere enorme essere su questo palco, questa sera nella migliore tradizione io occupo il palco! Sono più contento, perché stasera vi voglio godere tutti gli artisti bravissimi che stanno per cadere su questo palco, vado a farti sentire! Allora, vieni con me, vieni con me, vieni con me, lanciamo la prossima interpreta, già la sentita, sta arrivando sotto, Fiorentina, lei dice che non è più una cattiva ragazza, ma la sua anima è rimasta rock! Roma, fatemi sentire, per i reni, grandi!